Ultimo weekend di febbraio caratterizzato dalla variabilità, al più locale instabilità, perché? Perché è passato il fronte perturbato che ci ha interessato durante il corso della seconda parte del venerdì e in parte nella notte tra venerdì e questo sabato, si vivrà un due giorni di tregua, di attesa, perché poi durante il corso e la prossima settimana arriveranno nuove perturbazioni. Però il weekend tutto sommato sarà variabile, con schiarite, annuvolamenti. Durante annuvolamenti più consistenti, localmente si potrà accendere il rischio per qualche isolata e breve precipitazione, eventualmente nevosa, sabato oltre i 1200-1300 metri, domenica oltre i 1500-1600 metri. Forse qualche precipitazione in più potrà arrivare nella giornata di domenica sulla parte meridionale dell'Abruzzo, che potrebbe risentire invece di una fase di tempo molto instabile, molto perturbato, che vivrà il sud Italia. I venti saranno sempre dai quadranti meridionali, dopo i venti burrascosi, furiosi, della giornata di venerdì e in parte della notte tra venerdì e sabato tenderanno ad assumere una forza direi al più moderata. Il mare risulterà sempre mosso e le temperature si attesteranno sulle medie del periodo.